...per esempio in un sereno di battiti di classe, dove questi problemi possono essere posti e approfonditi. A fronte di tutta questa situazione, il mese scorso, il 13 maggio, il governo italiano ha sottoscritto una bozza di intesa con la Comunicazione Cristiana dei Testimoni di Genova, che è l'ente esponenziale dei Testimoni di Genova. Che all'articolo 5, al comma 3, indicato dalla Fedecia, dice che il governo italiano e i vertici di questa Comunicazione dei Testimoni di Genova comportano che l'ordinamento scolastico non preveda formi di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altri discipoli. Sulla base di ciò che abbiamo già detto e di ciò che ascolteremo dopo di vedere, che un governo abbia accettato una formulazione del genere con un movimento religioso alternativo come quello dei Testimoni di Genova, in cui si è ipotizzata la possibilità che ci sia un insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di discipline diverse dall'insegnamento della legge, lascia un portone aperto per l'ingresso nell'apprendimento fondale, il cui contesto, la cui prerogativa è l'aula scolastica, di tutto ciò che i Testimoni di Genova considerano l'insegnamento religioso. Cioè, per intenderci, questo moda, se approvato, e quindi questa intesa, se approvata dal Parlamento, in effetti, la metodo comportando il governo su questa forza di intesa, la parola passa al Parlamento che dovrà valutarlo e poi formalizzarlo in un disegno di legge, se approvato poi vedete la legge dello Stato. Una legge dello Stato tutelerà un gruppo religioso che ritiene, o che ha ritenuto, delle acquisizioni e delle conoscenze non scientifiche di tale importanza da doverne tenere conto nel contesto scolastico. Perché? Perché questa denominazione religiosa considera insegnamento religioso rifluso in altre discipline, per esempio nel caso dell'evoluzione, l'affermazione di una cronologia e di un processo evolutivo che non è indignato ciò che i propri libri insegnano. Cioè potrà essere invogato dal Ministro dei Testimoni di Genova un'eccezione di insegnamento religioso diffuso per ogni tipo di posizione culturalmente arretrata che si hanno in contesti che non hanno a che fare con la religione, quindi la storia, la scienza... E' decisamente pericoloso e, devo dire, denota una certa superficialità da parte di chi ha svolto la fase istruttoria che ha portato alla sottoscrizione di questa cosa. Sarebbe stato molto meglio seguire il suggerimento di un'insiglia giudista cattolico, il lettore dalla Torre dell'Università di Roma, il quale ha scritto Prima di arrivare ad un'intesa, lo Stato dovrebbe andare con maggiore attenzione, con prudenza e discendimento, il che non significa negare una libertà che è garantita a tutti. Evidentemente che ne si vede che in questo caso un regime di particolare favore, cosa che è ben diversa dall'esercizio della libertà religiosa. Dire che non è opportuna la sottoscrizione di questa cosa non significa negare al Testimono di Genova il diritto all'esercizio della libertà religiosa. Sono due cose completamente diverse. Significa, non volete, che una religiosità alternativa così adentrata sul piano culturale abbia una forma di tutela particolarmente venata che può mettere in difficoltà l'ordinamento scolastico a causa di questo sottile distinguo di prevenire forme di insegnamento religioso diffuso dello svolgimento dei programmi in altre scelte. Ora vedete, questi gruppi di religiosità alternativa sono molto bravi per presentare un effetto di facciata accattivante che nasconde proprio la dissimulazione di una ideologia che molto spesso presenta elementi di allarme sociale. Può accadere che in una scuola un gruppo o gruppi del potenziale umano si presentino, per esempio, per promuovere l'annettimento o la crescita dell'autostima degli allievi e propongano a presi, vuol dire docenti, di offrirsi per tenere i seminari, preghi, anche la presenza ovviamente di insegnanti, per presentare appunto delle tecniche, delle metodiche che migliorano all'ostima degli allievi. Ma siete sicuri che dietro tutto quello, questa proposta che facciate, non si scegli qualcosa che, se correttamente inquadrato, possa invece che migliorare e agevolare gli allievi galleggiati. Io spesso adoro queste immagini, questo è un disegno di Boeing. Se vi chiedessi cosa vedete, probabilmente, se voi faceste riferimento a questo profilo, mi direste è in viso di molto delicato di una faccilla che guarda verso il testo. Ma se voi soffermate su un punto particolare, che potete essere questo, e lo indicate, lo individuate come l'occhio, probabilmente associerete questo naso e questa bocca con la figura di una leggella. Queste sono figure che si chiamano più stabili, perché, appunto, ad una prima visione danno la possibilità di avere un'impressione. Ad una visione che si soffrende sul particolare, nello specifico, questo che può essere un asilo da questo profilo, può essere la recuperanza di questo naso, di questa bocca, di questi occhi, che è più molto, decisamente poco. Perché? Perché queste immagini? E vado alla conclusione. Perché ciò che appare può spesso ingannarci. Nessun sostenitore di una religiosità alternativa verrà a dirgli subito ciò che crede e ciò che pensa della scuola, dei programmi, di certe acquisizioni della futura contemporanea. Probabilmente presenterà un'immagine di sé accattivante per garantirsi la disponibilità e la cura fede da parte degli operatori scolastici, per poi agire a vostra insaluta su percorsi che vogliate conoscire. Quindi questo è un dito alla canterna e alla particolare attenzione. Che è indispensabile se il nostro, per così dire, materiale di lavoro sono i giovani che costituiranno una società interna. Grazie. Grazie.